La Consumer Sicilia, in nome per conto di alcuni proprietari di immobili siti in cortile Bentivegna, chiede la modifica di alcuni punti dello schema di convenzione stipulato tra Comune di Favara e Farm Cultural Park. Nello specifico, quali le modifiche richieste? Le modifiche che noi oggi abbiamo presentato al Comune, ribadiamo subito, sono concordate con la stessa Farm Cultural Park che ha presentato quello che è lo schema oggi in discussione. I temi sui quali vertono le modifiche sono sull'accesso dei proprietari residenti ai propri immobili e sull'accesso degli ospiti dei proprietari stessi che vanno lì in visita o per manutenzione o altro e comunque sia per una libera scelta di andare a trovare il proprio parente, amico che sia e quindi deve esserci un'autonomia privatistica riconosciuta per quella che è propria dell'abitazione civile. Altra modifica che viene chiesta è poi lo stralcio dei primi due commi dell'articolo 5 di questa commissione proprio perché prevede che il Comune di Fevara, sentita all'Università di Palermo, si adoperi per l'istituzione di un regolamento per quanto riguarda la sicurezza, gli accessi stessi e il ripristino della ristrutturazione degli immobili. Bene, queste sono tematiche di carattere pubblicistico, di fatti già da oggi questa convenzione i proprietari chiedono che venga ad essere completata con quella che è la delibera di giunta sull'isola pedonale che istituisce l'isola pedonale nel cortile Bentivegna e che regolamenta l'accesso da parte dei residenti e non. Inoltre vi è anche già un'ordinanza per quanto riguarda le emissioni sonore che è stata fatta nel 2012 e anche questa si richiede che sia parte integrante della convenzione a fine di rispettare l'ordine pubblico e il vivere civile. In merito alle installazioni i proprietari e l'associazione si rimette a quanto stabilito appunto dal regolamento TOSAP proprio per l'occupazione del suolo pubblico. Naturalmente questa volta in questo territorio dovrà essere coniugato con quella che è la delibera di giunta sull'isola pedonale e anche sulla stessa ordinanza sulle emissioni sonore. inoltre è emerso da un confronto tra le parti, tra i proprietari e la stessa farm che è la raccolta dei rifiuti che a Favara e a porta a porta, quindi a domicilio di fatto nel cortile Bendivegna viene raccolta solo ad angolo con via Zanella, quindi tutti i residenti dei sette cortili e parliamo del cortile Bendivegna come il cortile più ampio forse del comune di Favara sono costretti a depositare i propri rifiuti ad angolo all'uscita o all'ingresso, qualsivoglia, del cortile Bendivegna. Bene, questo non va bene, non va bene perché la raccolta è a domicilio ed è a porta a porta, quindi siccome lì ci sono anche i residenti anziani, devono avere il diritto riconosciuto a tutti gli altri cittadini di Favara e cioè di avere la raccolta vicino alla propria porta dei propri rifiuti. Queste appunto sono le modifiche da voi presentate, ma quando effettivamente queste modifiche saranno attuate? Queste modifiche dovranno essere tenute in considerazione nella seduta del Consiglio Comunale che dovrà approvare proprio questo schema di convenzione tra comune e farmacultura al parco per come voluto dall'aggiunta con proprio atto di indirizzo numero 83 proprio il mese recente. E' proprio su questo aspetto e su questa seduta che noi ci riserviamo di intervenire ulteriormente per il semplice motivo che ad oggi su questa convenzione è stato fatto l'atto di indirizzo da parte dell'amministrazione al Consiglio Comunale, però non ci risultano che siano stati acquisiti i dovuti pareri necessari degli uffici competenti proprio per la stipula di questa convenzione la quale dovrà seguire la sua prassi amministrativa e dovrà avere i suoi pareri di approvazione o meno degli uffici competenti. Poi è chiaro che il Consiglio Comunale è sovrano e potrà decidere se approvarlo, come approvarlo e con quali modifiche. Noi naturalmente siamo sicuri che le modifiche oggi presentate, in quanto in gran parte peraltro condivise con la farmastessa, porterà il Consiglio Comunale a riscrivere questa convenzione secondo queste modifiche e perché no? Noi ci auguriamo che anche il Consiglio Comunale stracci i primi due commi dell'articolo 5 di questa convenzione perché, ripeto, non sono argomenti che possono essere trattati in una semplice convenzione a carattere privato, ma hanno degli aspetti pubblicistici che vanno ben oltre i proprietari stessi dei sette cortili o del cortile Bendivegna.